Un'area di 25.000 metri quadrati situata sul litorale di Ponte Cagnano-Faiano è stata sequestrata dal comando della Polizia Provinciale di Salerno e dalle Guardie Ambientali Nucleo Provinciale Accademia Cronos di Salerno. L'operazione ha portato alla scoperta di una vera e propria discarica a cielo aperto di rifiuti speciali, pericolosi e non. Fra questi canne fumarie, pannelli in Eternit, fusti di vernici, oli esausti, filtri d'auto, materiali plastici e ferrosi, immondizia indifferenziata e materiale di risulta abbandonato senza alcuna protezione sul fondo incolto. L'attività ispettiva effettuata sui rifiuti inoltre ha permesso di scoprire una serie di indizi a carico di sei ditte di un privato cittadino, ritenuti responsabili di abbandono illecito di rifiuti in area vincolata. Nel corso della stessa operazione, gli agenti hanno scoperto e sequestrato un'altra discarica collocata nei pressi di un canale consortile. Anche in questo caso la spazzatura presente era di vario tipo, materiali pericolosi compresi.